La Regione Marche ha stanziato 24 milioni di euro per finanziare il piano triennale 2019-2021 di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà, in precedenza a carico delle province dell'ANAS. La gestione ordinaria invernale è affidata all'ANAS a fronte di un corrispettivo di 8.000 euro a chilometro. ANAS cura anche quello straordinario con alcuni oneri a carico della Regione, anche se fino a ora aveva eseguito questi interventi usando risorse statali di precedenti accordi di programma. Nel prossimo triennio la Regione investirà invece fondi propri. Il Presidente Luca Ceriscioli parla di un vero e proprio piano asfalti. Sottolinea che era un impegno preso qualche anno fa quando queste strade sono passate alla Regione in condizioni non proprio ottimali, dovute anche al fatto che per anni le province non hanno avuto risorse sufficienti a garantire una gestione continua. Ritiene che si tratti di un investimento importante che accompagna quello assicurato tutti gli anni attraverso la manutenzione ordinaria. Il piano asfalti restituisce a tutte le marche, conclude il Presidente, ma in particolare alle aree interne, strade di qualità che sosterranno gli spostamenti quotidiani delle famiglie, il turismo, la crescita economica. Gli interventi principali previsti dal piano riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale compromessa. Verranno comunque garantiti investimenti su ponti e viadotti, sulla segnaletica, sulle barriere di sicurezza e sugli impianti di illuminazione di galleria. Le arterie interessate sono la Salaria nell'Ascolano, il raccordo Monticelli-Marino del Tronto ad Ascoli, la Statale del Porto di Ancona, quella di Bocca-Trabaria-Urbino, la Provinciale a Pecchiese, la Val di Chienti, la Variante Santuario del Glorioso e del Braccio Ospedale, la Valnerina, la Corridonia Maceratese, la Provinciale Arceviese, la Septempedana ed infine la Provinciale 502 di Cingoli.